Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera reto autostradale toscana e sulla FIBILI. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonteblanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla strada regionale 69 di Valdarno restringimento di carreggiata e all'occorrenza senso unico alternato tra i chilometri 25,370 e 25,400 circa nel comune di Figline incisa Valdarno. Infine per i traghetti la corsa Torre Mardà Piombino a Porto Ferraio delle 16.05 è stata cancellata a causa maltempo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!